Buongiorno, sono Fabio Lancini. La mia avventura nel movimento è iniziata qualche anno fa, quando il movimento non c'era ancora. Frequentavo i meet-up, mi sono avvicinato per passione civica, mi interessavano tematiche ambientali e dell'energia, quindi ho iniziato a seguire dei convegni, delle conferenze e mi sono accorto che le persone che le organizzavano spesso erano le stesse, erano dei giovani come me, ho appreso il meet-up, ho deciso di collaborare anch'io e negli anni ho dato una mano. perché sono qua, perché conosco la realtà del movimento, ne condivido le idee e dà la possibilità a cittadini come me di entrare nelle istituzioni e rappresentare le idee degli altri cittadini e quindi perché no? Buongiorno. Grazie.